ciao a tutti bentornati e io sono sempre più dell'idea che ci serve una sigla allora prima mi devi commentare come vestito perché un vestito siamo per chi non l'avesse riconosciuto in air rivals ce l'hanno chiesto sul canale e no l'igi al nostro pubblico esatto ci siamo portati è il gioco di air ti avviso si questo l'avevo capito puoi capire che è un gioco di mignocco quindi soppole ma dovevi vedere perché ho già fatto il tutorial per non rompere le balle a chi ci guarda dovevi vedere come era vestita all'inizio no la tizia del tutorial con delle giardiettieri inguardabili un voce da porno un voce una voce da porno star sembri l'ottologo d'italia te lo volevo usare no è vero ho detto sono una cazzata i numeri hanno arrivato signori allora ti faccio notare non si può usare il wast per muoversi e punta e clicca vabbò è già squalificato tu lo sai allora sei vestita come una porno diva in giro ci sono altre porno dive cioè i tuoi capelli sono più lunghi del tuo vestito sei col culo e le tette all'aria ma però posso volare allora ho delle missioni che posso prendere qui dove c'è scritto ovviamente mission e riguardo le tette nel tempo che questo è un giocatore quindi guarda è anche abbastanza popolato basta premere decolla perché credo che devo finire una missione quindi adesso decollo ok con gli aeroplani tipo super tecnico è gioco giappo chino una volta che si è regolato a gundam mi fa pensare è più o meno forse allora al testo sto portale zona di battaglia ok non so perché ho premuto zona di battaglia che ne so io non ci ho mai giocato tu ci hai giocato ok devo abbattere dei tizi degli aeri nemici allora si sposta col mouse se premo la barra faccio tipo un'accelerazione oh guarda faccio le capriole tu no finalmente puoi farei capriole faccio un altro tu no così salgo vado su vado giù poi ci sono le varie abilità col tasto destro sparo la mitagliatrice con quello si istimisce adesso devo trovare gli avversari perché devo abbattere delle robe dell'esercito buono cioè devi aspettare 3 secondi per ora non l'ho mai trovata ma si esiste una mappa ah qui ci sono vedi ritornato a città i vari le varie opzioni fuori dalle a di vola no non l'ho rientro ti preoccupa cioè voglio dire che te vuoi che sei uno sciatto no e allora credo che lì ci siano i miei nemici ok io volo un po a cazzo mantieni insomma eh ok giro di qua quello scenario che io guarda esce l'acqua ok non c'è delle cascate tipo watcher no non lo devo abbattere devo abbattere credo c'è scritto a bom caccia bombardiere ok non sono selezionati però no li posso deselezionare io ma mi ricordo già più a col shift ok vedi questo qui ok è un caccia dell'esercitazione quindi non posso abbattere quando tappare questa cosa qui è loccato per le armi avanzate che sarebbero i missi lo devi tenere loccato armi standard lui intende la mitagliatrice ok sono proprio i danni ma per come lo visualizza è carino nel senso che è bello visibile non ti sbagli ecco ok io non so che altro devo abbattere sinceramente come facciamo una mission cina di volo il gioco non è brutto se ti piace il genere ok è abbastanza oddio questo è sempre un papone del cielo guardalo guardalo un papone del cielo mi sa che è un non lo posso bersagliare quindi mi sa che è un giocatore è un papone del cielo un papone del cielo non si può ascoltare comunque se ti piace a combatti anche a terra c'è tutto un lunghissimo tutorial appallosissimo comunque se ti piace il genere a cosa lo posso tirare lo posso abattere uno per watcher vedi no il sistema di lock è molto utile inquiettiva beh sostanzialmente probabilmente è livellato oddio occhi di gatto si stati buono sono due minuti per aggiungere bu 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 premi il trago v vabbè sti cazzi ok credo di aver finito l'acqua qui è un po un casino anche capire come si finiscono le quest perché non te lo dice è un obiettivo ma l'ho completato no si e non c'è tipo un quest log da qualche parte non lo so ci ho provato a vedere quest log prima però se se uso il mouse per volare e non puoi fare nient'altro c'è ragione bastardo che va contro il muro è moruto e praticamente il loot mi cade dentro l'aereo è una cosa che vi voglio segnalare comunque delle tartarughe volanti sono questi perché puoi combattere anche a terra praticamente io potrei in teoria atterrare cioè poggiare l'aereo a terra tu lo so che io già mi so senti male si lo so che questo è opps comunque stacco l'over watch credo di poterlo fermare in aria lo sai in aria si in stallo tipo lo stallo si ok ripeto per l'ennesima volta è un giochino che quello era un pesciolino volante però non riesco a sapere aspetta non vedi tipo così poti mischiando si perché se provo a staccare il mouse per m e e fa partire il missile ti stai schiantando allora io adesso provo a tornare alla città allora motivo se riesco a tirare giù una decina di altri caccia ne ammazzo un fottino e poi vediamo come va il gioco non è male se però voglio di quindi tu sei il capitano femmina della tua nave ed è il pilota femmina di aereo barra nave barra gudan barra trasformer tutto quello che vuoi ok dovrebbero stare di qua i miei quelli che cacciano quindi in realtà è un combattimento raso al suolo questo puoi combattere sia al suolo per aria un po dove ti pare per te cerco di entrare nella zona di combattimento è pronto ho solo watcher io dici che ho finito la missione voglio provare di entrare in città un po che rientrando in città mi fa controllare che ho combinato allora per entrare in città è anche abbastanza facile basta andare verso ritorno in città che questo coso qua sopra voglio vedere costumi degli altri giocatori ok quella l'indagine che si può fare oggi in mente quindi vabbè classico ci sono sti portali che ti portano un po a destra un po a sinistra non è voluto la frenzio di ammazzare questo qua perché lo so mi sta antipatico la scritta voce vabbè lo dici tu e ciao ciao saluto pipistrello osseo wow wow un uccellino volante effetto ammazzare un pipistrello con un aereo è una cosa che non si perché tu vuoi ammazzare ammazzare un pipistrello ma poveri animaletti ok riprendiamo il famoso mi sto sentire male onnaggia ok capiamo che per questi giochi per fascia sono veramente un problema comunque se non avete nulla di meglio da fare vi piacciono gli aerei mi piacciono i giochi arcade non vi dovete preoccupare di accendere o spegnere un motore potete giocare a questo tipo c'è sì è molto più semplice del decolla calibra e vedi un po e i freni e tutte le impostazioni ho sbagliato ingresso al contrario ci sei entrato ho fatto anche la prima volta che ho giocato quindi è una nuberia che ho già fatto smemorato che ti mangi gli scordarelli a colazione il momento della bruzzese appena dai perché scordarelli si dice solo qua penso di sì ecco eccoci qua tunnel torniamo verso la città ti faccio vedere come si atterra è difficilissimo vedi una pista abbassi il tuo jets ti poggi e poi premisci vabbè ma fa tutto lui vabbè ah qui faccio il rifornimento tutti quindi unisco delle cose che ho sprecato ok in realtà è un po un gioco variegato sì perché missione adesso mi dice è di certi fatti in missione abbatti tre bombardieri esercitazione e un caccia nelle robine di pietra mi sa che io ho un soldatore di pietra e che ne so io dove sei andato ah caccia i watch vabbè comunque comunque è un po un po un misto in realtà tra un gioco sui robottoni uno sugli aerei un mmo normale con insomma le dinamiche le meccaniche normali classiche insomma vai direttamente alla missione giusta anziché fare io il rumine di pietra infatti adesso stai adesso proviamo a terminare la missione è un po una misticanza poi l'insalata mista ma queste queste semi culinari adesso perché mi sta a famare lo stomaco ok caccia da esercitazione ok di questi quanti avevi tre caccia non lo so sì allora allora questo è un caccio tre caccia e due bombardieri ok mettiamo che io devo battere vende tre caccia e due bombardieri ok adesso non ho battuto uno è diminuito no ho battuto quattro caccia e due bombardieri ah quello è il conto totale bombardieri e mo quanti erano tre caccia e un bombardiere o tre bombardieri e un caccia mo io faccio quattro e quattro che dici eh ok missione clear ah a me lo dice quando esegua la missione bravo mauro adesso mauro se ne torna a casa ah e mi riporta lui a casa ma vieni ma sei bellissimo allora quindi stavi in una zona for fun sì quella dei watch che non devo fare ok ci piaci adesso credo che se metto missione metto missione missione chiudi sto coso missione computer eh missione computer è in italiano certo è in italiano ah non l'avevamo detto male è in italiano signori che ricompensa mi hai dato dei missilini big gear livello 2 sì quante eh vo ah gear eh lios questo si chiama no ma è pieno di italiani sospetto occhiali proiettivi vedi dicono tutte le cosine vabbè non ce ne prega niente tanto capsula del mistero io voglio vedere gli altri vestitini ok adesso se trovo il modo di chiudere l'inventario prendo il doppio i probabilmente allora guarda qui qui ce n'è un po' di gente vabbè tu sei allora questo non sembra un po' quello di gundam ti ho detto che è un po' si vabbè c'è brontolo no voglio andare a vedere se c'è brontolo c'è rosario 87 rosario hai un nome di merda sono tutti maschi ma scusa born to kill se è più spiegato ah inizio si 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 accetto un'altra missione così ci siamo adesso non si sa che dobbiamo fare si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille basta no quello non è un'altra roba si lo so ma mi è venuta in mente perché non dare sfogo al mio pensiero no no per l'amor di dio ok visto che mi devo distrarre perché altrimenti si vomiti anche l'anima sul nostro computer che non è una cosa molto bella no allora canto si vi delizio grazie adesso che mi hai commosso in questo modo eh tu tu ah ma rimbalzi ma va eh la nuberia e qui è favorita e dai ma è un transformers rimbalzabile un transformers rimbalzabile ti assicuro che non l'avevo mai sentito e comunque e comunque sai che mi fa pensare questo qua a un papone sicuro no a una sedia d'ufficio ebbene una sedia d'ufficio con le gambe abbattete le sedie d'ufficio no guarda sei riuscita di quelle che si girano che tu ti diverti abbattete le sedie d'ufficio volando tra gli alberi battete la sedia d'ufficio facendo sponda col suolo si rimbalzate oh mio dio ma chi l'ha insegnato da cazzo mi rastretto oh è una sedia d'ufficio tuoi invegli gli aerei per combattere ma che si fa con gli aerei tira giù le sedie d'ufficio mica è come la mia sedia senza braccioli che d'estate timore di caldo no no la sua sedia è migliore beh ok ne ho puntato un altro laggiù oh mio dio non ci posso credere ecco sedia d'ufficio no faccio dei rumori per dirizzare ecco questo è un gioco a cui potrebbe giocare tua sorella che cerca sempre delle ube sedie d'ufficio ecco sorella uccidi le tue sedie d'ufficio oh mio dio comunque farmare le sedie d'ufficio vi assicuro che è una cosa che non ha curato nessuno la grafica è quella che è insomma non è tutta questa non è che ti puoi aspettare infatti questa uberia però in italiano quindi credo che i ragazzini italiani ma oddio infatti credo che sia anche piacevole voglio dire non è proprio terribile no infatti ragazzi se volete giocare a un gioco serio di aerei c'è altro voglio dire beh questo è un po' se siete appassionati del genere un po' un po' robottone un po' se vi mancano le sale giochi e se volete giocare in italiano e soprattutto se vi sono antipatiche le sedie d'ufficio giocare a questo gioco quindi abbatti la sedia d'ufficio ma sei di di gomma rimbalzi ma non sei contenta e comunque questo scenario qui intorno mi sembra tanto uno scenario di gioco con i soldatini no? oddio abbiamo sforato clamorosamente clamorosalcibali sforatissimi ciao a tutti ragazzi invito a le sedie d'ufficio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti